Sì, venivamo da una partita martedì tosta, tosta perché la Coppa ci leva tante energie, poi non siamo tutti quindi è normale che si fatica di più. Però il primo tempo male, il primo tempo stanchi, non lucidi, il secondo tempo la chiacchierata a fine primo tempo in Ispogliato ci ha fatto bene, il secondo tempo abbiamo voluto la vittoria, abbiamo ottenuto la grandissima veramente, veramente.